Calcio di rigore, al novantasettesimo, parte Hebram, Spezia 0 Roma 1, arriva il fischio finale dell'arbitro, ha vinto la Roma. Regore, rigore, 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 va, Tagli con il destro, sì, 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 il gol di Dammi, il gol della Roma, vinciamo noi, non c'è più tempo. Fischia Fabri, vince la Roma! Calcio di rigore per la Roma. La ricorsa di Hebram, trova l'angolo Dammi Hebram, ha vinto la Roma con il rigore al novantanovesimo del suo numero nove, Dammi Hebram. Rientra Fabri. Calcio di rigore. Hebram contro Provedel, pallone che pesa una tonnellata. Nono di recupero, Hebram non sbaglia, la Roma vada avanti al minuto novantanove. Finisce qui, la Roma vince all'ultimo respiro col calcio di rigore di Dammi Hebram. Dodicesimo gol stagionale, tre punti per i giallorossi. Grazie. Grazie. Grazie.